A Guerra dei Sette Anni fu un conflitto che si svolse tra il 1756 e il 1763 coinvolgendo le principali potenze europee dell'epoca alla prima. Ecco un riassunto di questo importante evento storico, punto caos, la rivalità economica e coloniale tra la Gran Bretagna e la Francia nell'America del Nord e in India fu una delle principali cause del conflitto. I notre la La Prussia-Laustria si schierarono rispettivamente con la Gran Bretagna e la Francia, formando due coalizioni avverse punto schieramenti da un lato c'erano la Gran Bretagna e la Prussia, l'asterisco elettorato di Hannover, il L engraviato d'Assia-Casse, e altri alleati. Dall'altro lato, la Francia-Laustria, Impero Russo, il Regno di Svezia, e altri alleati battaglie durante la guerra, si combatterono numerose battaglie in Europa, Asia e America. Alcune delle più importanti furono la battaglia di Plassei, la battaglia di Fort Carillon, la battaglia di Zorndor e la battaglia di Kunersdorf-Esito. Alla fine, la guerra si concluse con vari trattati, tra cui il Trattato di San Pietroburgo, il Trattato di Parigi e il Trattato di Hubertusburg. Le modifiche territoriali furono significative, ma non coinvolsero l'Europa. La Francia restitui i territori coloniali riconquistati alla Gran Bretagna e al Portogallo, mentre la Gran Bretagna ottenne il Canada e altre colonie francesi in Nord America in totale. La guerra causò enormi perdite umane e cambiamenti geopolitici significativi. Fu un periodo di grande turbolenza e influenza sulla storia mondiale. Le conseguenze della Guerra dei Sette, anni furono significative e si estesero su vari aspetti, tra cui politica, economia e società. Ecco alcune delle principali conseguenze. Modifiche territoriali. La Gran Bretagna ottenne il Canada e altre colonie francesi in Nord America alla Francia restituì i territori. Coloniali riconquistati alla Gran Bretagna e al Portogallo l'Austria perse la Slessia a favore della Prussia. Impatto economico la guerra causò enormi spese militari per tutte le nazioni coinvolte. Colonie furono coinvolte in conflitti locali, influenzando il commercio e l'economia globale. Ambiamenti geopolitiche a Gran Bretagna emerse come una delle principali potenze coloniali e marittime. A Francia perse la sua posizione dominante in Nord America e in India. Fetti social la guerra portò a una maggiore consapevolezza nazionale e all'idea di asterisco asterisco identità. Nazionale le perdite umane furono significative, con migliaia di soldati e civili uccisi. Influenza sulla rivoluzione americana la guerra dei sette anni contribuì alle tensioni tra la Gran Bretagna e le colonie americane, che alla fine portarono alla rivoluzione americana ennintesi. La guerra dei sette anni ebbe un impatto duraturo sulla storia mondiale, ridefinendo le relazioni tra le potenze europee e influenzando gli eventi successivi. Le conseguenze della guerra dei sette anni furono significative e si estesero su vari aspetti, tra cui politica, economia e società. Ecco alcune delle principali conseguenze. Modifiche territoriali la Gran Bretagna ottenne il Canada e altre colonie francesi in Nord America alla Francia, restituì i territori coloniali riconquistati alla Gran Bretagna e al Portogallo, punto l'Austria perse la Slessia a favore della Prussia. Impatto economico la guerra causò enormi spese militari per tutte le nazioni coinvolte. I colonie furono coinvolte in conflitti locali, influenzando il commercio e l'economia globale. Cambiamenti geopolitiche. La Gran Bretagna emerse come una delle principali potenze coloniali e marittime. LL Francia perse la, sua posizione dominante in Nord America e in India effetti nazionale all'idea di identità nazionale. Le perdite umane furono significative, con migliaia di soldati e civili uccisi. Influenza sulla rivoluzione americana la guerra dei sette anni. Contribuì alle tensioni tra la Gran Bretagna e le colonie americane, che alla fine portarono alla rivoluzione americana Nin. Sintesi, la guerra dei sette anni ebbe un impatto duraturo sulla storia mondiale, ridefinendo le relazioni tra le potenze europee e influenzando gli eventi successivi. Le conseguenze della guerra dei sette anni furono significative e si estesero su vari aspetti, tra cui politica, economia e società. Ecco alcune delle principali conseguenze. Modifiche territoriali la Gran Bretagna ottenne l'asterisco asterisco Canada asterisco asterisco e altre. Colonie francesi in asterisco asterisco Nord America la Francia restituì i territori coloniali riconquistati. Alla Gran Bretagna e al Portogallo. L'Austria perse l'asterisco Slessia a favore della Prussia. Impatto economico la guerra causò enormi spese militari per tutte le nazioni coinvolte. E colonie furono coinvolte in conflitti locali, influenzando il commercio e l'economia globale. Cambiamenti geopolitiche. La Gran Bretagna emerse come una delle principali potenze coloniali e marittime. LL Francia perse la sua posizione dominante in Nord America e in India effetti nazionale all'idea di identità nazionale. Le perdite umane furono significative, con migliaia di soldati e civili uccisi. Influenza sulla rivoluzione americana la guerra dei sette anni. contribuì alle tensioni tra la Gran Bretagna e le colonie americane, che alla fine portarono alla rivoluzione americana NIN. Sintesi. La guerra dei sette anni ebbe un impatto duraturo sulla storia mondiale, ridefinendo le relazioni tra le potenze europee e influenzando gli eventi successivi. Le conseguenze della guerra dei sette anni furono significative e si estesero su vari aspetti, tra cui politica, economia e società. Ecco alcune delle principali conseguenze. Modifiche territoriali la Gran Bretagna ottenne il Canada e altre colonie francesi in asterisco asterisco Nord. America la Francia restituì i territori coloniali riconquistati alla Gran Bretagna e al Portogallo, punto l'Austria perse la Slessia a favore della Prussia. Impatto economico la guerra causò enormi spese militari per tutte le nazioni coinvolte. I colonie furono coinvolte in conflitti locali, influenzando il commercio e l'economia globale. Cambiamenti geopolitiche. La Gran Bretagna emerse come una delle principali potenze coloniali e marittime. LL Francia perse la, sua posizione dominante in Nord America e in India effetti nazionale all'idea di identità nazionale. Le perdite umane furono significative. Con migliaia di soldati e civili uccisi, punto influenza sulla rivoluzione americana la guerra dei sette anni, contribuì alle tensioni tra la Gran Bretagna e le colonie americane, che alla fine portarono alla rivoluzione americana Nin. Sintesi. La guerra dei sette anni ebbe un impatto duraturo sulla storia mondiale, ridefinendo le relazioni tra le potenze europee e influenzando gli eventi successivi, punto le conseguenze della guerra dei sette anni furono significative e si estesero su vari aspetti, tra cui politica, economia e società. Ecco alcune delle principali conseguenze. Modifiche territoriali. La Gran Bretagna ottenne l'asterisco asterisco Canada asterisco asterisco e altre. Colonie francesi in asterisco asterisco Nord America. La Francia restituì i territori coloniali riconquistati. Alla Gran Bretagna e al Portogallo, punto l'Austria perse la Slessia a favore della Prussia. Impatto economico la guerra causò enormi spese militari per tutte le nazioni coinvolte. E colonie furono coinvolte in conflitti locali, influenzando il commercio e l'economia globale. Cambiamenti geopolitiche. La Gran Bretagna emerse come una delle principali potenze coloniali e marittime, punto LL Francia perse la, sua posizione dominante in Nord America e in India effetti nazionale all'idea di identità nazionale, le perdite umane furono significative, con migliaia di soldati e civili uccisi. Influenza sulla rivoluzione americana la guerra dei sette anni contribuì alle tensioni tra la Gran Bretagna e le colonie americane, che alla fine portarono alla rivoluzione americana Nin. Sintesi. La guerra dei sette anni ebbe un impatto duraturo sulla storia mondiale, ridefinendo le relazioni tra le potenze europee influenzando gli eventi successivi.